Si è tenuto presso la palestra della Scuola Media Marocco di Supino l'incontro conclusivo dell'iniziativa Il Diritto di Essere Bambini, un progetto dell'amministrazione Barlet, nello specifico dell'assessorato ai servizi sociali guidato da Anna Iacobucci, insieme ai ragazzi del servizio civile. Sono stati esposti i lavori eseguiti dagli studenti dell'istituto comprensivo, i quali hanno letto anche alcune loro riflessioni, hanno eseguito balli e giochi. Un progetto che ha preso il via lo scorso mese di febbraio e che riveste notevole importanza per far prendere coscienza anche ai più piccoli che l'amore, il sorriso, il calore di una famiglia, il gioco, l'istruzione sono elementi fondamentali nella vita di ciascuno, anche se a noi sembrano ovvi e semplici. Dobbiamo cercare però di preservarli e proteggerli il più possibile. Il progetto vede la formazione non come punto di arrivo ma come punto di inizio, partendo dal riconoscimento di se stessi per attivare un comportamento culturale nuovo e costruttivo. Un'iniziativa del nostro assessorato ai servizi sociali, insieme ai ragazzi del servizio civile, un'iniziativa che è partita da marzo, parlare dei diritti dei bambini è una cosa essenziale. Io ho fatto, adesso ho concluso un intervento con i ragazzi di Supino nel quale ho sottolineato l'esigenza da parte dei ragazzi, dei bambini di avere dei diritti che vengano rispettati e tutelati da noi a Supino ma in tutto il mondo e la sottolineatura che ho fatto è che fortunatamente da noi insomma, gran parte dei diritti dei bambini, dei ragazzi vengono rispettati e tutelati, purtroppo in altre parti del mondo così non è. Grazie ai ragazzi del servizio civile nazionale del comune di Supino che hanno pensato e progettato e organizzato questo evento. Sono andati nelle scuole partendo dall'infanzia, elementari e medie. Hanno fatto degli incontri presentando dei video e facendo capire a loro l'importanza di essere bambini e che loro hanno dei diritti. E oggi è la giornata conclusiva dove tutte quante le scuole stanno partecipando per mostrare il loro lavoro, il lavoro fatto in queste giornate di preparazione. È stata una bella esperienza, divertente. I bambini sono contenti a quanto pare, stanno giocando, hanno letto alcune poesie e è stato impegnativo toccare alcuni argomenti con loro ma tutto sommato siamo riusciti a farlo in modo serio ma in ogni caso divertente. Questa mattina è iniziato come un normale giorno di scuola, poi qualche ora dopo l'inizio delle lezioni siamo partiti e siamo venuti qui alla palestra della scuola media. Abbiamo inizialmente visto un video sui diritti dei bambini e dopo noi ragazzi delle media abbiamo letto alcune riflessioni e alcune poesie riguardo appunto ai diritti dei bambini. E adesso stiamo per fare il gioco delle fettucce dopo aver letto una poesia sui diritti e sul diritto del gioco. Io penso, io mi ritengo fortunata perché ho una famiglia che mi vuole bene, che mi ama e tutto, ma ci sono dei bambini nel mondo ma anche qui vicino a noi che non vivono nelle stesse condizioni. Devono lavorare 10 ore al giorno, devono portare loro i soldi a casa e vengono anche magari maltrattati e vengono sfruttati. E questa cosa sinceramente non pare molto corretta. Sono bambini come noi, non hanno niente di meno o di più. Questa giornata invita a far riflettere tutti noi anche perché qualche... C'è stato dato un foglio dal comune, sono venuti i ragazzi dell'Unicef e hanno parlato un po' di tutte queste cose. Quindi è stato un bel lavoro, abbiamo lavorato, abbiamo scritto queste riflessioni, fatto anche dei cartelloni.